Vi faranno entrare in un mondo antico, candido come la neve non calpestata. In un viaggio tra cornamuse, ghironde, arpa celtica e fiati, lo sferisterio diventerà di colpo ancora più magico. Allora, arpa celtica e voce Anna Cefalo. Ed un grandissimo applauso per un vero ricercatore della musica contemporanea, Emilio Cozza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.